Ma è la politica fra l'altro osteggiata anche da paesi come la Francia che sono socialisti, quindi sono ancora più a sinistra della nostra coalizione di governo, perché sono assolutamente pieni di buone intenzioni e assolutamente negativi dal punto di vista della gestione poi concreta dei problemi che, come abbiamo sottolineato noi, ricadono tutte sulle spalle dei più deboli che subiscono questa invasione incontrollata di disperimenti. Sperati dalle coste del Nord Africa.